Era intorno alle 16 quando i mezzi con a bordo i resti delle due vittime che mancavano hanno lasciato la zona del disastro. I corpi di Antonio Morsani, 47 anni di Rieti, e di Antonello D'Ambrosio, 33 anni di Petrella Liri, sono stati trasportati all'obitorio di Avezzano e si sono aggiunti a quello di Valerio Paolelli, 37 anni, di Tagliacozzo e figlio del proprietario che era stato portato via nella tarda mattinata. Sul posto erano presenti i D'Ambrosio che hanno atteso fino all'ultimo. Solo il papà ha accusato un malore al momento della notizia del ritrovamento del corpo del figlio ed è stato portato in ospedale. Prima delle salme è andato via il medico legale Cesare Giffi che ha comunicato che le salme erano tutte identificabili. Sono identificabili, quindi hanno dei caratteri e dei segni per i quali possono essere identificati. Tramite i riscontri che si avranno con i parenti che ci indicheranno quali sono le caratteristiche dei loro parenti, potremmo identificare le persone. Vi prego, non ho altro da dirvi, non ho proprio notizia da darvi. Già recuperati, li stanno trasportando. È stato l'ultimo epilogo di una giornata difficile dove si è proceduto al recupero dei corpi e alla loro composizione. La zona resta ancora sotto sequestro ed è impossibile avvicinarsi a quanto resta della pirotecnica Paolelli, visto che tutte le strade di accesso sono sotto controllo delle forze dell'ordine. Il pericolo di altre esplosioni dovrebbe essere ormai cessato, ma resta alto il livello di guardia anche se la pioggia caduta nelle ultime ore dovrebbe aver scongiurato ogni pericolo. Da domani si penserà alle indagini affidate al procuratore Maurizio Maria Cerrato e ai carabinieri coordinati dal comandante provinciale Donnarumma.